Nuovo weekend in campeggio, andiamo a fare un giro all'isola di San Biagio chiamata anche l'isola di Conigli Scendo dal nostro campeggio si gira a destra e bisogna per forza poi passare un altro campeggio al camping San Biagio per andare all'isola di San Biagio bisognerà pagare perché è un'isola privata proprio del camping San Biagio Adesso ci stiamo passando attraverso il campeggio, vorremmo passare di fianco al ristorante e il detto ristorante è l'isola dove si dovrebbe riuscire ad arrivare a piedi perché comunque l'acqua è bassa altrimenti c'è una sorta di battello Noi che c'è? Posso stare qui davanti? Dai! Oh abbiamo scelto proprio la strada più bella Giusto? Sono caduta! L'attraversata per arrivare all'isola di San Biagio Ditto anche l'isola di Conigli perché una volta c'erano i conigli ma mi sa che non ci sono più Eeeh! Andiamo a vedere il panorama Siamo sicuri allora che ritorniamo a piedi? Siamo sicuri che ritorniamo a piedi? Da un battello Tra l'altro si comincia a pagare da giugno Adesso non si paga niente per venire nell'isola Maggio Mezzo al nulla Come è andata la traversata? Bene! Ci siamo rimprescati No, di più io E' bagnatissima Acqua congelata Io direi che adesso rientriamo in campeggio e ci buttiamo in piscina Com'è andata questo weekend? Benissimo Ciao! E anche questo weekend è giunto al termine Per questo video è tutto Vi ricordo che il weekend è sia su Facebook che su Instagram Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale Ciao! 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 Grazie a tutti.